Ben trovati da Andrea Lazzara con le previsioni del tempo di Arapal. Oggi giovedì ancora residui e deboli piogge e locali rovesci specie nelle aree interne. Domani venerdì ancora un po' di instabilità al primo mattino, poi ampie schiarite dal pomeriggio. Seguirà un fine settimana in gran parte soleggiato con temperature e in generale aumento. Il dettaglio oggi giovedì 15 ottobre molto nuvoloso con piogge deboli intermittenti più diffuse sui versanti padani di centro ponente, maggiori schiarite lungo le aree costiere specie a ponente, locali rovesci o isolati temporali nel pomeriggio in serata sugli estremi della regione, venti forti settentrionali sul centro e sui rilievi della regione tra deboli e moderati altrove con rinforzi irregolari, mare da poco mosso a mosso sul centro ponente, mosso levante, aumento del moto ondoso in serata a partire da ponente, temperature massime in diminuzione lungo la costa tra 15 e 18 gradi nelle zone interne intorno 10 e 11 gradi. Domani venerdì 16 ottobre nelle prime ore possibili rovesci isolati temporali sullo spezzino specie in mare aperto in esaurimento nel corso della mattinata, schiarite dal pomeriggio altrove nuvolosità regolare con addensamenti anche compatti al mattino sui versanti padani e le zone interne, nubi in diradamento dalle ore centrali con passaggio a cielo poco o irregolarmente nuvoloso, venti in prevalenza settentrionali moderati o localmente forti al mattino con tendenza a disporsi da ovest sud ovest a ponente nel pomeriggio, mare molto mosso al mattino a levante in calo a mosso dal pomeriggio, mosso localmente molto mosso al mattino sul centro ponente in calo fino a poco mosso in serata, temperature minime in diminuzione lungo la costa tra 9 e 11 gradi nelle zone interne intorno 8 e 9 gradi, massime in aumento lungo la costa intorno 19 e 20 gradi nelle zone interne tra 13 e 16 gradi. Dopodomani sabato 17 ottobre generale miglioramento con cielo sereno poco nuvoloso su tutte le zone, temporanei velature al mattino sul centro ponente, locali addensamenti pomeridiani nell'interno, venti deboli o moderati settentrionali al mattino in serata, deboli variabili o al locale regime di brezza nel pomeriggio, mare poco mosso sul centro ponente, inizialmente mosso levante in calo a poco mosso dal pomeriggio, temperature minime stazionari lungo la costa intorno a 9 e 10 gradi nelle zone interne tra 4 e 7 gradi, massime stazionarie lungo la costa intorno 19 e 20 gradi nelle zone interne intorno a 15 e 16 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti su arpal.liguria.it, sulla pagina facebook di Arpal e sul profilo instagram dell'agenzia. A risentirci!